Buongiorno a tutti, sono Akiko Kosato. Martedì 12 ottobre, dalle 17 alle 19, terrò la presentazione del mio corso per bambini presso Salotto in Prova. Il titolo del corso è Ode alla Dea del Sole. Ho scelto di iniziare proponendo ai bambini il racconto di un mito giapponese. Questo racconto rappresenta una prima possibilità per stimolare l'immaginazione dei bambini e permette di introdurre primi parametri musicali di base, attraverso l'uso della voce di piccole percussioni di alcuni semplici strumenti tradizionali. Avvicinare con l'immaginazione delle storie il lavoro sul suono e la voce di ognuno è un primo passo per educare la persona alla musica. Lavorare in gruppo non solo stimola l'immaginazione, ma anche la collaborazione fra i bambini per avvicinare il suono in maniera giocosa e creativa. Vi invito a visitare per maggiori informazioni la presentazione del mio corso sul sito di Salotto in Prova. Grazie. 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 Grazie.